Continua senza intoppi la preparazione della Latri Calcio allo Stadio Chiappitto. La Rosa si sta allenando agli ordini del tecnico Mirko Carlini, tornato a guidare gli ernici dopo le vittorie ottenute con il club. L'allenatore di Ceccano infatti vanta due trofei importanti. La vittoria del campionato con la squadra Juniors d'Elite qualche anno fa e soprattutto la Coppa Italia a promozione conquistata due anni fa con la prima squadra. Una vittoria che ad Alatri mancava da molto tempo e che ha avuto il merito di riportare entusiasmo nell'ambiente verde-rosa. L'obiettivo di quest'anno è confermare la categoria e togliersi quante più soddisfazioni possibili. Il direttore sportivo Fabio Ceci, di concerto con il tecnico e la società, ha allestito un roster in grado di ben figurare. Tra le punte di diamante del mercato c'è sicuramente il ritorno dell'attaccante Raffaele Cerasuolo, già protagonista nella stagione della vittoria della Coppa, che affiancherà Michele Settanni in avanti. Con loro ci sarà anche l'esterno d'attacco Mattia Grimaldi e il difensore Moreno Tiberia, mentre le chiavi della porta sono state affidate al giovane Marco Ludovici. Altre due importanti trattative di mercato hanno riguardato il centrocampista Andrea Pompili, classe 96, acquisito dal Morolo a titolo definitivo, mentre dal Tecchiena è arrivato il promettente difensore centrale Marco Frezza, classe 94. Definite anche le amichevoli precampionato. Monte San Giovanni Campano a Latri si disputerà sabato 13 alle 10.30. La settimana successiva, sabato 20 alle 17, la Latri se la vedrà con il Cassino. Quindi il mercoledì successivo, 24 alle 17.30, la sfida contro il Ceccano. Poi, domenica 28 alle 10.30 al Chiappitto, la Latri chiuderà con la Vis Subiaco.